Stamattina si va al Crocodile Park, il parco dei coccodrilli, sempre qui a Agadir. Attraversiamo però questo campo, dall'altro lato si vede la città. Il Crocodile Rock Park è dall'altro lato di questa strada. Eccoci qua. E questo è l'esterno del parco dei coccodrilli, eccolo quel coccodrillone. E allora entriamo nelle fauci del coccodrillo. Allora ragazzi, eccoci entrati qui nel parco dei coccodrilli. Ecco qui una filima distesa. Questa è che si fa la passeggiatina. Ragazzi, senza dubbio un'attrattiva balanza. La rattrazione è molto particolare qui a Agadir. Si è quasi sopra. Oltretutto poi è da dire che questo, oltre ad essere un parco dei coccodrilli, è anche un giardino botanico. Infatti si riscontrano e si trovano per l'appunto di queste specie. Questo è il famoso Baobab. Arbore patadde all'Egitto e tanti altri. I specchi dissorcenti. Tra le tante cose ci sono pure gli specchi che alterano la figura. Ma non è come un sento corto. Basissimo. Ragazzi ne sono tanti. Particolare però eh. Pauroso ed affascinante allo stesso schistante. E qui c'è pure un'area, come dire, relax. E qui c'è pure il nuovo piede. La prima volta di inflammation. E qui c'è pure un piede. La prima volta di marinale. P Indexe. Un piede. Grazie a tutti, un piede. Un piede. Un piede. Un piede. Un piede. Grazie a tutti.